Buongiorno ragazzi, veniamo alla parte più complessa del pensiero di Leibniz, quella riguardante appunto la monadologia e le monadi e la descrizione di quelle che sono le monadi. Non a caso Bertrand Russell, un filosofo, ha parlato delle monadi come di un racconto di fate. In realtà il discorso di Leibniz è molto più semplice di quello che noi pensiamo. Abbiamo detto che lui fa una distinzione fra quello che è il piano del reale e quello che è il piano dell'ideale. Quindi il regno della saggezza è il regno della realtà, quindi ciò che c'è in astratto è ciò che c'è nella realtà. Nella realtà, dice lui, la materia è potenzialmente divisibile all'infinito. Alla fine dobbiamo giungere ad una unità di base che fornisca la base per tutto quello che già Democrito aveva ipotizzato essere l'atomo, ciò che è non più divisibile, che lui definisce atomomateriale. Questo atomomateriale però è informe, non ha una sua connotazione propria e si unisce agli altri secondo delle regole che non dipendono da lui, proprio perché quest'unità di base deve essere uguale per tutti. Però allo stesso tempo le sostanze che esistono nella realtà sono tutte diverse. Gli uomini non sono piante, quasi sempre, le piante non sono animali, gli animali non sono sassi. Quindi ogni sostanza ha delle caratteristiche peculiari che sono diverse le une dalle altre. E allora che cosa si inventa? Cosa tira fuori? Aristotele aveva parlato di materia e forma. Lui fa la stessa cosa, atomomateriale e atomospirituale. L'atomo spirituale è ciò che dà la forma e che tende, fa tendere l'atomo in generale all'aggregazione, alla costituzione delle sostanze. Anche perché, dice Leibniz, le sostanze individuali, tutte le sostanze individuali, altro non sono che uno specchio e allo stesso tempo un aggregato di atomi materiali e spirituali. Questo atomo spirituale che funziona esattamente come la percezione individuale, come l'io individuale, come l'anima, se volessimo dirla così, Lui la chiama monade, per cui la monade è esclusivamente l'atomo spirituale. E l'atomo spirituale è esattamente lo specchio di ciò che vive ogni sostanza individuale. E cioè possiede due caratteristiche. Percezione, che è capacità di sentire tutto il mondo, ma in maniera più confusa di come facciamo noi. E' appetizione, quindi tendenza alla realizzazione del proprio fine. Da questa distinzione in realtà deriveranno anche tutte le seguenti. Deriverà il concetto di accettazione delle cause e quali cause accetta nella realtà Leibniz. Deriva tutto sostanzialmente. Che cosa vuol dire questa cosa? La monade è una sostanza individuale, voi dovete immaginarla proprio come siete voi, ma molto più piccola. Per quale motivo però le monadi, pur avendo percezione e appetizione, non se ne vanno ognuna per i fatti suoi, ma al contrario tendono tutte nella stessa direzione nella creazione di un individuo, tant'è che voi e io non siamo consapevoli di ogni singola monade che ci compone. Com'è possibile questa cosa? Lui dice perché l'universo è costituito, c'è una regola nell'universo che funziona e funziona per tutto, ed è l'armonia del cosmo. Tale armonia del cosmo di fatto è quella che regola le relazioni e le interazioni fra le monadi nella costituzione delle sostanze individuali e nella disgregazione delle sostanze individuali. È l'armonia del cosmo che regola tutto il funzionamento della realtà ed è una regola che è stata costituita una volta per tutta la materia, allo stesso modo per tutta la materia, l'armonia di tutti i percepienti. Questo ci permette, permette a noi banalmente, di avere le percezioni in una direzione unica perché tutte le nostre monadi navigano, guidano, remano nella stessa direzione, ci portano a percepire la stessa cosa. Allo stesso tempo il mondo intelligibile e il mondo materiale, quindi il mondo delle monadi spirituali, l'anima e il mondo della materia, agiscono secondo due principi differenti e rispondono a cause differenti. Non le sta dividendo, ma le sta distinguendo, cioè sta facendo una distinzione di tipo logico, anche perché non esiste materia senza forma, non esiste atomo materiale pura passività senza una monade spirituale che è pura attività. Esistono sempre insieme, ok? Qual è la regola? Quali sono le cause che riguardano il mondo della materia? Le cause che riguardano il mondo della materia sono le cause efficienti, quindi quelle che banalmente generano un movimento causato da un altro. Quindi io spingo il libro, sto attuando la causa dello spostamento del libro e la mia spinta. Quindi ciò che risponde alle regole della causa efficiente è la materia. Al contrario gli atomi spirituali rispondono alla regola della causa finale, e cioè sono finalizzate, sono orientate ad uno scopo, ad un fine. Questo è il motivo che fa dire a Leibniz anche che le monadi spirituali, le monadi, gli atomi spirituali, non hanno né porte né finestre, nel senso che non hanno bisogno di comunicare fra di loro. Se ciò che regola tutto l'universo e tutto ciò che costituisce l'universo è questa armonia che fa funzionare il cosmo in maniera perfetta come una macchina che non ha bisogno di ulteriori interventi, è chiaro che le monadi non hanno bisogno di comunicare fra di loro. Hanno tutte lo stesso intento, non si devono coordinare. È come se il loro funzionamento fosse scritto automaticamente all'interno del loro DNA. Di conseguenza non hanno bisogno neanche di imparare, non hanno bisogno neanche di comprendere, non hanno bisogno di conoscere altre cose. E quindi gli esseri umani in generale, quelle sostanze che sono consapevoli di sé, sono quelle sostanze in cui il regno della saggezza, quindi il mondo intelligibile, e il regno della potenza, che è la materia, la materialità, gli atomi materiali, in qualche modo si incontrano attuando e mettendo in atto, più che mettendo in atto manifestando, ecco perché ogni aggregato è fenomeno ciò che appare, manifestando un'armonia prestabilita. Questo ci porta a dire ovviamente che ogni aggregato è di fatto un fenomeno, qualcosa che si mostra come libero, tendente verso un fine, eccetera, ma in realtà noi non stiamo facendo altro che rispondere alle leggi dell'universo, cosa che ci porterà poi al problema sulla libertà umana, che discuteremo più avanti. Ovviamente tutte le monadi procedono nella stessa direzione e sono perfettamente accordate fra di loro all'interno di questo concetto dell'armonia prestabilita. Il problema è che questo concetto dell'armonia prestabilita di fatto ci pone di fronte a un problema serio che poi vedremo in seguito, che è appunto quello dell'etica. Un altro aspetto molto importante è che Leibniz stabilisce una gerarchia fra le varie monadi e in generale una gerarchia fra i vari livelli di esistenza. Tanto per iniziare i gradi di perfezione più bassi sono quelli ovviamente che godono esclusivamente delle caratteristiche della monade. Percezione che abbiamo detto essere confusa, se volete una definizione di percezione, andate di nuovo all'agnoseologia di Leibniz, dove è spiegato, appartiene alla materia e a petizione. Al contrario, l'anima umana possiede un gradino in più di conoscenza. Questo gradino in più di conoscenza è la percezione. Ricordate l'esempio del quadro, sempre nel filmato sulla gnosologia, e cioè io divento consapevole di conoscere, consapevole di percepire, questo è un gradino in più di conoscenza. In altri casi ci sono delle anime ancora più raffinate rispetto a quello dell'uomo, che possono essere, che so io, quella di Dio, per esempio, che hanno a che fare con una conoscenza ancora più raffinata e ancora più elevata. Ovviamente questo ci porta ancora una volta a una distinzione. L'uomo, avendo a percezione, quindi consapevolezza della propria percezione, è l'unico che può avere conoscenza del mondo morale. Quindi di fatto il regno degli esseri umani è il regno morale della grazia. Con questo chiudiamo la spiegazione sulle monadi. In realtà non sono poi così complesse come sembra se si entra nell'ottica di Leibniz. E ci sentiamo per il tema dell'etica in Leibniz. A dopo.